Sono arrivati al porto di Porto Empedocle 22 immigrati della Somalia, tra i quali due donne e sei minori, soccorsi nel pomeriggio di venerdì da una motovedetta della Guardia di Finanza a 30 miglia a sud delle coste Licatesi. L'imbarcazione con il motore Navaria era stata segnalata alle autorità italiane dalla Marina Maltese. Raggiunti e trasbordati sull'unità delle Piamme Gialle, i clandestini sono stati trasferiti a Porto Empedocle. Portati nella vicina tenso struttura sono stati assistiti, visitati, identificati. La maggior parte giovani di età stanno bene e la loro posizione ora sarà verificata. In sedici a bordo di un pullman sono stati trasportati al centro di prima accoglienza di Pian del Lago a Caltanissetta, mentre gli altri sei sono stati accompagnati nelle comunità minorili della provincia di Agrigento. Nella giornata di venerdì altri 58 somali erano stati intercettati a soccorsi a sud dell'isola di Malta da un'altra motovedetta della Guardia di Finanza.